Coltiviamo talenti è uno dei claim che utilizziamo per la campagna di quest'anno. I talenti sono un punto di riferimento per chiunque svolga un'attività, una professione, una professione dove vengono richieste delle caratteristiche non comuni, la capacità di relazione, le competenze, la qualità del servizio, l'assistenza e quindi dove siamo in grado di scoprire e di coltivare i talenti mi sembra che non facciamo altro che contribuire alla crescita dell'associazione e del settore e quindi questo binomio sicuramente è vincente ed è convincente. Tra l'altro la campagna l'abbiamo realizzata utilizzando anche quest'anno i volti dei nostri soci che si sono prestati e tra questi anche tanti soci giovani. Sì, parlando di talenti non può essere escluso il rapporto con le nuove generazioni, quindi l'orientamento è coltivare questi talenti nella maniera giusta, facendo riferimento alle esperienze passate e quindi cercando di migliorare tutte quelle attività che potrebbero e potranno portare le nuove generazioni a esprimersi in maniera corretta e puntuale nella professione stessa. E poi non dimentichiamo che un tema che si unisce spesso al talento è la passione, la passione di svolgere una professione che si vive quotidianamente con grande intensità e quell'intensità porta poi a definire delle soddisfazioni che aumentano in maniera esponenziale poi il livello di impegno per arrivare ad una prestazione di servizio di altissimo profilo. Grazie. Grazie.